Alla fine della gara il presidente che aveva tuonato dopo l'eliminazione della Coppa Italia si coccolava i suoi gioielli perché ha compreso le difficoltà della partita e l'importanza della contesa. Si doveva vincere e la squadra lo ha fatto facendo in piedi il suo dovere anche contro le avversità della mancanza di un allenatore capace di slavoggere ruole e tattiche mettendo in difficoltà i suoi uomini e davanti ad un avversario non semplice veniva da tre vittorie consecutive e che Alguariglia ha confermato la sua valenza. Troppo compassata psicologicamente l'Agropoli perché sentiva la pressione del risultato. Una vittoria le avrebbe dato il primo posto e questo ha finito per condizionare l'undici cilentano. Sgombra di mente e libera di pressioni la formazione Irnina arrivata ad Agropoli con la spavalderia di chi non ha nulla da perdere. E' finita 2-0 i gol entrambi nella ripresa e tutti e due su calci piazzati. Nel primo tempo a parte l'avvio buono dell'Agropoli non si è visto niente se non un tiro di reverse per gli ospiti parato in acrobazia dal portiere agropolese. Sul piano del gioco meglio la formazione ospite. L'Agropoli il solito 4-3-3 da lavagna con le tre punte bloccate anche in fase di non possesso. Un disordine tattico aberrante con Natilo a destra masocco a sinistra entrambi invertiti nel centrocampo ai fianchi di De Cristoforo anche lui colto in difficoltà dalla squadra lunga e incapace di accorciare. Gli ospiti a Fesa Armonica erano puliti nel gioco più spediti nelle trame ma decisamente inferiori all'Agropoli sotto l'aspetto tecnico. Nella ripresa spazio a Costantino. Pensate da mediano poi centrale di difesa lo mette a punto al posto di Alba. Dall'entourage dell'Agropoli si fa trapelare che il giocatore risente dei postumi di un infortunio e l'allenatore non ha voluto rischiarlo. Radio Spogliatoio dice altro. L'Agropoli cresce nella continuità e nella pressione. Margiotta impegna un tesoniero formato aquila con un colpo di testa ma poco dopo il Salernum cade. Un calcio di punizione bellissimo di Natiello dalla sua mattonella e dal modo a lui più congeniale. Si insacca nell'incrocio dei pali e nemmeno tesoniero ha ancora formato aquila riesce a smanacciarlo. L'Agropoli è in vantaggio. Natiello ha segnato da una posizione che l'allenatore gli ha tolto in campo mandandolo a giocare in una zona dove in corsa questi gol non li può fare e infatti al tiro ci va molto di meno rispetto a quando invece è abituato a fare. Poco dopo Marocco sciupa il pareggio con un colpo di testa ravvicinato per quanto concerne la formazione del Salernum e l'Agropoli concede ancora spazi larghissimi perché attacca ancora a testa bassa senza razziocinio. Su una ripartenza però si creano le condizioni per il raddoppio. Costantino da punta alta a sinistra scatta in contropiede, dribbling in aria e fallo da rigore, penaltinetto. E qui Costantino si lascia andare in un gesto di stizza contro l'allenatore probabilmente che lo ha tenuto in panchina, lo ha messo alla sinistra e lui con grande serietà professionale è risposto da campione, quale è? O contro il difensore che gli contestava la simulazione? Sul dischetto va margiotta, tocco felpato e gol. Non poteva non esserci anche la firma del capitano sulla partita che ha sancito l'arrivo in vetta della classifica dei defini. E anche questa volta, come ad Angri, non si deve pensare ad un punto di arrivo ma di partenza perché il cammino è lungo ma più facile di prima. Le mani al cielo del sindaco al tributo del fischio finale e il segnale chiaro che la città tiene a questa promozione e che il presidente Infante sta facendo molto bene.